Dall'8 settembre al 20 ottobre torna il corso di fotografia al Metauro e altri fiumi italiani. Di che cosa si tratta e dove si svolgerà? È un progetto didattico che vuole quindi divulgare la passione per la fotografia e la conoscenza dei luoghi e si svolgerà alla sala del Cubo Centro Commerciale San Lazaro qui a Fano in presenza mentre invece gli altri fiumi italiani le persone potranno seguire il corso teorico appunto a distanza in remoto e fotografare poi i loro fiumi vicino alle loro case. Quindi il Metauro che è il fiume più importante delle Marche verrà messo in relazione con tutti i fiumi d'Italia. Quanti saranno gli appuntamenti e se è ancora possibile iscriversi? Allora sì, gli appuntamenti saranno 12 di cui 5 uscite pratiche con gli esperti tutor di Centrale Fotografia ed è possibile iscriversi, ci sono ancora dei posti quindi entro mercoledì sera potremmo appunto ricevere le nuove iscrizioni. Il corso vuole divulgare il linguaggio fotografico ma anche la conoscenza dei luoghi quindi ci saranno un geografo letterario che ci darà dei contributi, un architetto, un archeologo e altri esperti di fotografia che saranno con noi appunto per conoscere meglio questo luogo. Verranno mise in mostra poi le foto? Sì, le immagini verranno naturalmente selezionate in base anche a quello che si parlerà durante il corso e si farà un evento finale agli inizi del mese dell'anno prossimo e faremo questo progetto espositivo che darà davvero delle cose interessanti per vedere meglio il fiume Metale. Grazie